a di autoservice dove esperienza e professionalità accendono i motori le han services servizi grafici abbigliamento sportivo antinfortunistica e per qualsiasi professione istituto di vigilanza securità spuglia ristorante e pizzeria le tre torri da giovanni gruppo simpli l'ipermercato più vicino a te todo modo e hotel a terra caseificio bianca ostuni 30 40 imprese costruiamo la tua solida realtà conferenza stampa questa mattina per il candidato del centrodestra ostunese guglielmo cavallo che ha analizzato il voto e corretto il tiro su alcune informazioni sbagliate che stavano circolando in città il bilancio per il candidato sindaco è positivo ed è già pronto dalle prossime ore a ricominciare per la terza volta una campagna elettorale dopo le primarie del primo turno è arrivato il momento del rush finale per la terza volta nel giro di pochi mesi chiedo il consenso ai miei concittadini l'ho fatto per le primarie l'ho fatto per il primo turno e adesso per il ballottaggio c'è tanto entusiasmo intorno a me il risultato elettorale è positivo ci accreditavano di percentuali più basse abbiamo raggiunto il 33 per cento pensavano di vincere a primo turno e invece il candidato avversario è rimasto molto sotto al 50 per cento c'è una maggioranza di ustuni che non vuol tornare indietro questa può essere la volta buona può essere la volta buona che ustuni svolti veramente nella conferenza stampa ho posto l'attenzione sulla disinformazione di queste ore che parte un po' dai comitati elettorali che purtroppo ha deviato anche la stampa locale oggi c'è un titolo che dice che in caso di vittoria di tanzanale 5 stelle in consiglio comunale una disinformazione enorme io ho parlato questa mattina con l'ufficio elettorale hanno rifatto i conteggi secondo delle indicazioni secondo una sentenza del consiglio di stato che io stesso ho ricordato e purtroppo per loro 5 stelle non vanno in consiglio comunale in nessuna delle ipotesi quindi quel titolone del giornale di oggi il quotidiano di oggi è completamente fuorviante così come fuorviante la disinformazione che sta partendo da alcuni comitati elettorali circa l'eventualità di una anatra zoppa in caso di vittoria del centrodestra io voglio ribadirlo ulteriormente mi sembrava che non ci fosse bisogno ma evidentemente è così in caso di vittoria del centrodestra non ci sarà nessuna anatra zoppa perché il centrodestra avrà il premio di maggioranza pieno e quindi 15 consiglieri per la maggioranza e 9 per l'opposizione bisogna combattere anche con la disinformazione che viene utilizzata anche da chi si picca di comportamenti signorili. Ieri sera c'è stato un incontro con i candidati di tutte le liste per motivare e per sentire insieme la voglia di partire per questi 15 giorni sono motivatissimi tutti insieme a me riprenderemo a contattare tutti i nostri amici faremo degli eventi che coinvolgeranno i nostri elettori andremo nella cerca di consenso anche da chi non ci ha votato al primo turno naturalmente.